Fede e Marilenghe, questi sono i due concetti fondamentali dei valori della terra friulana racchiusi oggi in un'opera, la Sacra Bibbia, tradotta proprio in lingua. L'opera è stata donata questa mattina dal presidente della provincia di Udine Fontanini alla biblioteca civica Ioppi. Udine è la capitale del Friuli, quindi è importante che la sua biblioteca, la Ioppi, abbia questa Bibbia in lingua friulana. È una Bibbia stampata in maniera prestigiosa e soprattutto due grandi sacerdoti come Percheco Pacereani e Per Antonio Bellina che hanno tradotto in friulano la Bibbia. Si tratta di otto volumi che saranno quindi consultabili dai lettori della civica, ovviamente destinati a chi vuole leggere le Sacre Scritture in lingua friulana, che viene così consacrata, come spiega lo stesso sindaco Onsel. Avere la Bibbia tradotta in friulano è la dimostrazione più forte, più conclusiva, che il friulano è una lingua perché sono poche appunto le comunità che utilizzano i loro vernacoli per tradurre uno dei libri più alti come appunto la Bibbia. Questo dà valore, spessore alla lingua friulana perché vuol dire che la parola di Dio si può leggere e si può così ammirare e condividere proprio usando la nostra lingua, il furlan. Un popol cu la Bibbia, ale un popol cu il chapiel sul chaf. È l'espressione con cui il prete di Montenars condensava il significato della traduzione in friulano, proprio della Bibbia. Un popol, quello friulano, che attende ora di poter celebrare interamente la Santa Messa dal messale in Marilenghe. Sul messale dove pronunciarsi la CEI e speriamo che a maggio dica qualcosa, i vescovi italiani dicono qualcosa su una domanda che oramai da tanto tempo viene fatta dal popolo friulano, dal clero friulano, finché si possa celebrare la Messa utilizzando il messale in friulano.